Il dottor Mazza, direttore dell'unità complessa di ematologia e trapianti presso la struttura ospedaliera del Moscati di Taranto, è candidato al Consiglio regionale con la lista La Puglia domani, fitto presidente. E allora, dottor Mazza, le ragioni di questa sua candidatura? Le ragioni, ho avuto modo di spiegarle, sono molto semplici. Io sono quasi a termine carriera dal punto di vista medico, ho accumulato un'esperienza non indifferente in oltre 40 anni di attività e questo mi permette oggi di vedere in sanità e non solo in ematologia quello che va e quello che non va. Una delle cose che io credo che vada messa a punto è come riportare l'assistenza nel territorio, come ridare fiducia negli utenti nel rapporto con il proprio medico, nel rapporto quindi con tutti i servizi che il territorio offre e come questa fiducia tradurla in termini di efficienza assistenziale. Questo per evitare il sovrappeso, il sovraccarico che si determina negli ospedali quotidianamente, dove si crea disagio sia per chi ha delle problematiche serie, sia per chi ha delle problematiche meno serie. Quindi riportare nel territorio ciò che si può assolvere e risolvere nel territorio. Questo è lo scopo che io mi perfilgo.